Allora, te poi, per cortesia, c'è un problema qui, allora non si sente l'acqua. Cosa succede? Non mi fai parlare col conduttore te, per favore? Veramente sono io. Ah, fai te tutte le sere? Certo, Sanremo. Ma lo sa la Rai? Eh? Lo sa la Rai? Certo che lo sa la Rai. Allora, quelle tre, le tre grazie, grazie, grazie. Grazie, va bene. Grazie ancora. Ringraziamo, ha stonato. Ah, loro hanno stonato, ho capito. Vabbè, insomma, ti chiedo... Mi dai questo, per favore. Ornella, Ornella Manoni, Ornella Manoni, ti chiedo scusa, ti chiedo scusa. Senti, grazie per aver accettato il mio invito, sono onorato, sono particolarmente. Adesso non fai ruffiano te, eh? Mi hai messo qui fra le vecchie glorie, per Albano e Romina, gli spandavo balletti. Cos'è, Sanremo o Cocun? Non so qui, dai. Vabbè, d'altro genere, è vero, vai. Ma quando l'altra sera vi guardavo in televisione, quando è entrato Pino Donaggio, la televisione è diventata in bianco e nero. Sì, ora. Ma guarda che i parenti di Donaggio sono contenti, pensavo fosse morto. No, ma cosa dice? È donaggio. Pino, scusami. Allora, tu non sei... Ma io sono vecchi. No, no, sei una ragazza meravigliosa. Abbiamo fatto l'amore di te. No, cosa... Ma c'è tempo, la serata è lunga. Queste sono le due squinze di... Eh? Le valette, dove sono? Le valette? Ah, Emma e Arisa. Che ti è Marisa? No, dico... Marisa. È Arisa. Ma non so mica sorda, chi è la Marisa? La spagnola? No, quella è Rossio. Rossio di chi? No. Beh, allora... Dimmi, insomma, che effetto ti fa a essere su questo palcoscenico? Ma... Ma a me mi emoziona, sì, mi emoziona sempre. Un bel palco, beh, me la sono sempre fatta sotto io in questo palco di Sanremo. A cantare qui, eh? È importante. Sanremo qui è come fare l'amore, capito? In tre minuti ti giochi la carriera, così. Ho capito, ho capito. È vero, eh? Sei stata molte volte... Sì, sì, sì. Benziornella, sei stata molte volte qui a Sanremo, no? Sì, sì. Però di tutte le volte che sei stata... Qual è quella che ti è piaciuta di più? La volta che mi è piaciuta di più eravamo io e Gino. Il Gino Paoli. Eravamo arrivati da un paio d'ore, così qui a Sanremo, e a Gino gli è venuta voglia di fare l'amore, sai? Sì. Perché il Gino è un po' così. Voi vedi? Quando gli parte l'ormone, a Gino non lo fermi neanche col posto di blocco, sai? Allora abbiamo iniziato a fare l'amore, hai capito? Sì. Eravamo tutti stretti, però scomodi. Tutti stocchi. Con questi gabbiani che ci guardavano. Ho detto, guarda Gino, scendiamo da sto deltaplano e continuiamo a fare l'amore in spiaggia. Siamo atterrati sull'ombrello di Tony Ray. Poi abbiamo fatto un terzetto, è uscito grande, grande, grande. Perfetto. Hai capito come nascono le canzoni? Ma guardate, chi l'avrebbe mai detto? Sì. Comunque Ornella... Sì, abbiamo fatto così. Ornella, io parlavo dell'esibizione sul palco, sul palco. Allora di sul palco, precisino te, che non lo dici. Allora, sul palco, forse era nel 70, mi sembra, che avevamo cantato... Ah, bellissima, con i camaleonti. I camaleonti, i furbetti, i camaleonti. I camaleonti erano dei furbetti, perché loro... Io entravo in camerino, pensavo che non ci fosse nessuno, mi spogliavo, erano tutti lì, così. Ma noi facevamo gli scherzi... Ecco i virobroni. Poi chi c'era? Poi c'era la fatti, la fatti bravo, la bionda, che lei poi in realtà sotto è nera. Come? No. Sotto è nera, con cose calbunni. Ah, no, sì, sì, ho capito, ma non sono cose da raccontare. Si scaldalì, che ricchetto lui, si scaldalì da subito. Però, insomma... Senti, Ornella, stasera ci sarà il vincitore delle nuove proposte. Qual è il consiglio che dai ai giovani? Allora, bisogna di giocarsi bene a loro, così io saremo perché è importantissimo, va bene? E poi mia madre mi diceva sempre, mi raccomando Ornella, un filo di trucco, un filo di tacco. Allora io ai ragazzi dico, mi raccomando ragazzi, un filo di voce, un filo di culo. Ma... Sempre, no, perché funziona... No, è vero, perché funziona, scende, scende.